eccoci eccoci in diretta ciao Jacopo ciao Emiliano ciao a un anno a un anno dalle prime dirette dal marzo del duemila venti ritorniamo in diretta su Facebook non è cambiato molto dall'anno scorso evidentemente un po' di tristezza nel dirlo ma va bene andiamo avanti lo stesso con i nostri progetti anche così come state? Verone di pubblico Emiliano deve attivare il microfono esattamente come un anno fa le persone non attivano questo è l'anno della marmotta ogni anno a marzo si resetta tutto quindi come stai non c'è male se magari mi sentite pure meglio sì sì ti sentiamo stai dal punto di vista tecnologico malissimo un po' di disastro più totale e beh inizia anche un po' un rifiuto della tecnologia ma io ce l'ho da bello antelusano insomma è comunque sì è distanza ad un anno il ciclo ricomincia al ciclo delle dirette speriamo non ci sia anche il ciclo della primavera duemilaventidue no dai incrociamo le dita speriamo nei vaccini e vediamo che succede allora allora siamo siamo in diretta oggi ci c'è già un po' di un po' di pubblico siamo in diretta per presentare a chi ci segue un nuovo progetto live it's better da un'idea di Emiliano Mori come tante delle cose che facciamo arrivano da Emiliano Mori anche questa è una sua idea e quindi io direi di passo la parola Emiliano che ci racconta un po' che cos'è questo progetto come è nato è nato sempre da una telefonata tra me e te no Riccardo mi è venuta un'idea la facciamo ecco prego questo è il mood con cui ci muoviamo da da un po' di tempo a questa parte purtroppo è un'idea che è nata proprio dal periodo che abbiamo vissuto da questo anno così alienante per certi versi io mi sono messo un po' dalla parte degli studenti che durante quest'anno hanno dovuto sostenere la loro test di laurea da casa quindi senza un pubblico senza avere tutta quella come si dice tutto quel sistema che c'è durante le tesi la discussione classica delle tesi in cui poi dopo c'è la festa si esce si fa il brindisi si sta tutti insieme con gli amici quest'anno non è stato possibile non è stato neanche possibile far sì che i nostri amici e tutte le persone insomma avreste voluto durante la discussione della vostra tesi potessero essere presenti ad ascoltare quello che raccontavate quello che avevate fatto durante il vostro appunto internato che è anche un po' una grande non è non è chiaramente tutta ma è una grande parte di soddisfazione di finire un percorso ecco quella di poterlo condividere soprattutto perché c'è c'è tutta la festa c'è quel senso di catarsi e liberazione sicuramente uno ce l'ha anche se discute la tesi a casa però comunque c'è c'è proprio una cosa di quasi celebrativa no che si fa in quei momenti là dalla stretta di mano ma anche solo lo scambio dei regali se si vuole essere venali però non è solo questo certo una sensazione molto particolare questa cosa quest'anno è venuta meno perché il lockdown comunque sia tutto quello che che ha comportato la la mancanza di socializzazione di interazione diretta ho detto però ci sono stati almeno per quello che è stato il mio percorso ma sicuramente ognuno di noi ce l'avrà avuto ho avuto degli studenti sono laureati veramente bravissimi e sinceramente sentirli discutere e vederli discutere in un contesto in cui non c'erano persone un po' mi dispiaceva dicevo madonna certo questi ragazzi bravissimi avrebbero meritato di avere un pubblico che li ascoltava avrebbero meritato un contesto diverso naturalmente non siamo nessuno per andare contro di pcm attuali quindi non è che a questo punto noi vi proponiamo un ritorno al passato e un pubblico pauroso però quello che che mi è tenuto in mente ma perché non chiediamo loro di ridiscutere le loro tesi registrarsi e poi utilizzare il pubblico di successione ecologica oppure il pubblico insomma che non avete avuto di fatto e condividere con noi la discussione della vostra tesi ovviamente registrata adesso non è che chiediamo la registrazione precisa del momento certo certo e a noi farebbe piacere darvi un pubblico condividendo la discussione della vostra tesi sulla nostra piattaforma sul nostro canale di youtube e in realtà a quel punto poi una volta che su youtube è condivisibile sui sui vari social su qualsiasi piattaforma vogliate condividerla sul vostro sito su e e questa è la idea che mi ha dato in mente per per darvi diciamo una parte di quella soddisfazione che avreste avuto laddove l'aveste discussa diciamo in presenza ecco quindi vediamo vediamo un po la parte un po più tecnica quindi quello che chiediamo ai neolaureati insomma i laureati dell'ultimo anno è quello di partecipare a questo contest poi vediamo cosa c'è in palio no visto che è un contest innanzitutto è uno spazio che noi forniamo no è lo spazio di poter pubblicare un video registrato in modo casalingo no ognuno a casa sua con le proprie slide con i propri mezzi non non verrà valutata diciamo la la bontà del montaggio video di circa una quindicina di minuti in formato mpeg 4 che cosa che cosa ci aspettiamo all'interno sì sì mp4 va benissimo che cosa ci aspettiamo come contenuto che i ragazzi che ci proporranno i loro video parleranno dei loro risultati possibilmente con un taglio divulgativo in modo che possano il loro video possa essere fruibile anche da un punto da un pubblico di non super tecnici no di quell'argomento ma possiamo spaziare il più possibile come ha detto emiliano i video verranno pubblicati sul nostro canale youtube quindi sul canale youtube di successione ecologica e come tutti i video che pubblichiamo li pubblicheremo con licenza creative con mumbai 4.0 quindi alla partecipazione al contest dovrete compilarci un modulo in cui dichiarate che siete d'accordo questo tipo di pubblicazione poi della parte modulistica la vediamo proprio sul finire della diretta e andiamo avanti con la prossima slide chi sono gli studenti ammessi jacopo vuoi vuoi dire qualcosa tu intanto e gli studenti ammessi sono continuo su questo espando cosa va vai vai può partecipare chiunque quindi sia uno studente di una laurea triennale che di una laurea magistrale specialistica che abbia discusso la propria tesi in modalità telematica su un argomento semplicemente collegato allo studio alla conservazione della biosfera e della biodiversità quindi può partecipare chiunque c'è da anche persone non di laurea come scienza naturale o biologia ma anche semplicemente per esempio chi ha studiato una facoltà di scienza agraria o forestale che ha studiato una facoltà di veterinaria si può partecipare anzi è abbastanza interessante perché di solito per esempio tipo quando uno presenta risultati della propria tesi lo fa a una conferenza promossa da una società scientifica generalmente sono abbastanza a compartimenti stagni cioè a volte per esempio alcune società sono più frequentate dai biologi e non ci vede i veterinari non vede chi si occupa di salute animale e allo stesso modo per esempio nelle conferenze di salute di ecopatologia per esempio non vedi chi ha un background di scienze forestali quindi chiunque sia interessato e abbia fatto una tesi sull'argomento può partecipare non importa nemmeno che la laurea sia magistrale quindi diciamo che la chiave la chiave è che si parli di conservazione della biosfera a qualunque livello di indagine ok sì specie comunità ecosistemi interfacce tra la conservazione della biodiversità e la società qualora ci fosse qualcuno là fuori che si occupa di questo ecco il tema il nostro il nostro amico fabio bozzeda ci dice magari li vede qualcuno e trovano lavoro un dottorato uno stagio sono ottimi ma perché no perché no può essere può essere interessante anzi se qualcuno che guarda la diretta che non è uno studente che è un ricercatore o fa parte del personale accademico rimane colpito e vuole entrare in contatto con uno dei partecipanti può vedere insomma chi è per cui anzi incoraggiamo questa cosa qui se c'è qualche presentazione che vi ha colpito e perché no grazie Claudio intanto per i per i complimenti e allora andiamo avanti un attimo sulla parte tecnica come inviarci i video allora i video che saranno quindi dei file con una certa dimensione dovranno essere inviati con we transfer o servizi simili a we transfer ce ne sono tanti all'indirizzo email live it's better chioccio la successione ecologica punto it la mail sarà ripetuta anche nel nel regolamento e nei moduli che dovrete compilare e allegare alla vostra richiesta inviandoli sempre a questa mail sarà tutto dettagliato nel regolamento il termine i video dovranno arrivare entro il 30 aprile quindi diciamo che da oggi abbiamo un mese e una settimana avete un mese e una settimana per realizzare il vostro prodotto e dove trovare il regolamento allora se volete trovare il regolamento ho creato uno short link per comodità bit.ly slash live it's better se domani o al più tardi mercoledì verrà inviata comunque la la pubblicità di questo nuovo progetto tramite la nostra newsletter e la pubblicheremo su tutti i nostri canali social quindi twitter instagram e facebook questa diretta poi verrà anche caricata sul canale youtube quindi sarà ampiamente condivisibile sia qui su e sia su qualunque altro canale vogliate anzi se state se state guardando la diretta o la vedrete diciamo indifferita e conoscete tesi ex tesisti vostri oppure conoscenti che si sono laureati con delle tesi che rientrano in questo campo conservazione della biosfera fateglielo presente e arriviamo arriviamo a questo punto non ho una slide per questo confesso me la sono dimenticata arriviamo mannaggia arriviamo alla parte contest quindi innanzitutto c'è in palio esatto ricchi premi innanzitutto c'è in palio lo spazio ma questo è per tutti no chiunque ci invierà il video avrà avrà uno spazio per condividere la propria il proprio video la propria discussione di laurea per i primi dieci i primi dieci che invieranno il video avranno la possibilità avranno la tessera associativa di successione ecologica per tutto il 2021 a carico nostro e quindi per il 2021 potrete partecipare speriamo che si possa eventi in presenza come soci esatto e e poi le tre persone che riceveranno più visite sul del proprio video di questi tre verrà estratto a sorte un vincitore a sorte perché non vogliamo non vogliamo essere noi come associazione a giudicare i contenuti estraiamo a sorte e il vincitore vincerà la partecipazione alla summer school che stiamo organizzando insieme ad un centro ricerca sul monviso la summer school nei nostri piani era prevista per l'estate 2021 non l'abbiamo ancora promossa perché in realtà non sappiamo ancora se la situazione epidemiologica lo permetterà se non sarà il 2021 sarà il 2022 ma il premio lo teniamo buono quindi il primo vincerà la summer school quindi sarà tutto a carico nostro mentre gli altri due secondo e terzo classificato avranno uno sconto sulla partecipazione alla summer school la summer school che riguarderà metodi di campionamento in ambiente fluviale e ambienti limitrofi con la partecipazione dell'università del piemonte orientale università di torino e politecnico di torino chiaramente con successione ecologica quindi pensiamo che possa essere un un bel riconoscimento per il lavoro svolto emiliano tu hai nella tua ricchissima schiera di tesisti hai già qualcuno in mente so che a qualcuno avrai già scritto in anteprima più o meno sì qualche nome ce l'ho però adesso vediamo se lo faranno o meno ok ok non è che ci sono raccomandazioni ah no no certo certo diamo impasto diamo impasto al web sì la cosa la cosa importante è che non ci sono tesi belle o tesi brutte cioè partecipate e condividete cioè non non dovete bucare lo schermo non dovete tanto vero c'è un quarta roba dietro cioè non dovete bucare lo schermo non dovete pensare che la vostra tesi valga poco perché tutte le cose sono interessanti anzi più si riesce a discutere meglio è perché uno degli scopi di questa iniziativa è coinvolgere più persone possibile portare anche persone che normalmente non sarebbero andate a discutere la propria tesi a una conferenza o perché non avevano mezzi ok a condividerla per cui se avete delle cose condividetele discutetele nella peggiore dell'ipotesi se vi fanno domande ve le scrivono avete modo di pensarci giusto infatti giusto non c'è l'imbarazzo di dover rispondere immediatamente di dire oddio questa non la so si può fare come una versione fatta in casa di ted in cui voi parlate a un paio soltanto che non ci sono persone è una versione un po' i comori di ted io a ted probabilmente impazzirei aveva un'ansia incredibile invece è un po più no però è interessante poi magari vedete una tesi che vi piace contattate la persona e non lo so sviluppate una collaborazione è interessante una cosa benissimo benissimo io ho sempre il dubbio di dove sia la webcam di Jacopo quando facciamo le diretti allora no ho due schermi in realtà mi flippa il cervello sta cosa dello schermo speculare per cui ne sto guardando un altro che sono di taglio è un po più sopportabile sì perché streaming hard inverte fa l'immagine speculare rispetto ad altri software quindi non sai mai da che parte devi girare la testa per dare il tuo lato migliore no comunque se avete dei commenti scrivetele anche qui in chat in ogni caso l'email liveitsbetterchiocciolasuccessioneecologica.it la guardiamo tutti i giorni quindi se avete dubbi anche riguardo alla modulistica da compilare insomma vi rispondiamo se vi siete persi la mail scrivete a infochiocciola successioneecologica.it vi rispondiamo lo stesso magari ci metteremo qualche giorno di più in quel caso ma vi rispondiamo quindi qualunque dubbio chiedete chiedete anche su tutti i nostri canali social sia la pagina facebook che il gruppo facebook che la pagina instagram sono gestiti da noi tre principalmente quindi insomma qualcuno guarda e vi risponde nel più breve tempo possibile so che emiliano ha degli impegni improrogabili a minuti dieci minuti sì dieci minuti ok abbiamo ancora un budget del tempo se vedo che però non arrivano domande dal pubblico quindi diciamo che possiamo possiamo andare verso possiamo andare verso la fine ma io ho una domanda perché sono curioso visto che il creatore di questa di questa copertina di progetto è Jacopo Cerri spiegacela ah oddio questa cosa qui non mi è mai stata chiesta è incredibile sì sì a sorpresa cioè devo spiegare un logo mio dio è come spiegare le barzellette c'è una cosa tremenda e no l'idea appunto è che c'è questo barbaciano in sottofondo che sta guardando il microfono il vero dubbio è se si appoggerà sul microfono tra l'altro facendo un suono orribile perché deve essere una roba straziante se si va a pollare sul microfono vivo o se andrà a vocalizzare vicino al microfono per cui se avete visto questa iniziativa da lontano avvicinato come il barbaciano e vi diventate dal microfono quindi splendido splendido nel logo c'è anche che c'è successione ecologica on air ha ha certo 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 le battute sottili le battute sottili e non bisogna evocare lo schermo cioè come dicevo cinque minuti fa no no esatto come noi tre come noi tre ci si prova ci si prova ci si mette anche alla prova con questa con queste nuove modalità va bene ragazzi ci congeliamo in bocca al lupo a tutti in bocca al lupo a tutti domani condivideremo a rullo esatto mandate 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 successione ecologica sarà lo dico in anteprima sarà in diretta lunedì prossimo per la presentazione del progetto se bimbi la pagina di youtube dedicata alla alla divulgazione per i più piccoli per bambini e ragazzi ciao a tutti i primi dieci saranno nostri soci per un anno gratuitamente quindi affrettatevi detta così suona quasi una minaccia però no 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 nicola nicola che ci stai seguendo che ti sei collegato in ritardo potrai vedere la diretta è comunque indifferita perché è salvata sul nostro profilo e sarà anche pubblicata su youtube questa sera quindi ci potrai ascoltare con calma ciao a tutti ciao 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 ciao